Bene, buonasera a tutti i presenti, ovviamente, a coloro che ci seguono da remoto e ovviamente un saluto carissimo ai nostri interlocutori, Marisa Fimanò, Anna Ferruta, Silvia Vigetta Finzi e Massimo Recalcati che partecipa da remoto. Bene, l'oggetto di questa sera è un incontro che si svolge a un mese dalla guerra, passato all'incirca un mese da quando c'è stata questa brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia e un evento che ha suscitato un'emozione enorme, un'emozione che non si interrompe, che continua ancora. Le ragioni di questa emozione sono tante, ovviamente, poi ci avremo tempo a metterla a fuoco fino in fondo, perché non è facile metterla a fuoco, però ovviamente l'emozione così enorme è dovuta innanzitutto al fatto che è qui in Europa, quindi a pochi passi da casa nostra, quindi la sentiamo come qualcosa di enormemente vicino. Io ho l'impressione che vi sia anche un'altra ragione un po' particolare, che questa guerra ha assunto i caratteri micidiali della guerra tradizionale, dell'occupazione militare, dei bombardamenti, delle case, degli assedi, della città, qualcosa che in qualche modo non era più nel nostro lavoro. Pensate, di guerra che abbiamo visto tante negli ultimi anni, però era in qualche modo guerra in cui la guerra aerea era quella predominante. Mi sono in presenza invece di un fenomeno che in qualche modo riporta a cose più antiche, addirittura ancestrali che ci stanno venendo avanti, l'assedio delle città è qualcosa che nella seconda guerra mondiale non ha più avuto altri sviluppi. E poi c'è infine una terza cosa, che questa guerra apparentemente tradizionale è accompagnata da qualcosa che era sparito dal nostro linguaggio dalla metà degli anni Ottanta, la minaccia atomica. Verso 84-85 sparì Gorbachev, insomma. Con Gorbachev immediatamente si arrivò a un grande cambio di clima generale nel rapporto fra le due potenze nucleari di allora e clintamente questa questione fuoriuscita dal dibattito pubblico e dalle nostre personali riflessioni, dalle nostre personali angosce, è rientrata prepotentemente in modo inatteso, scioccante addirittura. All'incirca esattamente un mese fa si è cominciato a riparlare come minaccia che incombe ogni tanto evocata. Insomma, una questione maledettamente seria che suscita enormi interrogativi. E allora noi abbiamo pensato che il nostro dovere, in una situazione in cui se ne parla dappertutto ovviamente, giustamente, della guerra, i Tosciò sono inondati, in media, in vari modi sono inondati, il nostro compito sia quello di cercare di mettere a fuoco alcuni interrogativi che non trovano spazio dentro altre sedi di riflessione. Questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare e cerchiamo di farlo anche adesso. In particolare il nostro tentativo è quello di cercare di andare alle radici anche delle nostre inquietudini, delle domande ultime che vengono avanti su queste questioni. E allora ci è venuto del tutto naturale porre un interrogativo più radicale di tutti. Perché la guerra? E in questo interrogativo ci siamo fatti accompagnare dalla lettura di alcuni saggi di Freud, alcuni saggi molto potenti di Freud, brevi, saggi molto brevi. Il primo è Considerazioni attuali sulla guerra e la morte che Freud schisse nel 1915, un anno più che era scoppiata la prima guerra mondiale. E un altro saggio invece che scrisse molti anni dopo, nel 1932, sollecitato d'Einstein, mandò una lettera a cui lui rispose con un lungo saggio, perché la guerra? Il titolo del 1932 ha un anno dalla presa del potere di Hitler, quindi vedete la densità anche dei eventi intorno a cui stava riflettendo Freud. E devo dire che la lettura di questi testi è francamente il notevole impatto. Poi come dire, io che non sono uno studioso, uno specialista di queste cose, potrei anche aggiungere che in realtà tante di queste tesi che colpiscono così profondamente le si ritrovano anche in altri saggi di Freud. Il disagio della civiltà in realtà è un saggio attraversato da osservazioni che sono molto simili a quelle che sono presenti in questi due saggi, però vi devo dire francamente che letti e nel mio caso riletti adesso in questo contingente tutto sono due saggi molto forti che aiutano o meglio invitano a riflettere potentemente. E per questo abbiamo chiesto di parlarne studiosi di grande rilevanza che abbiamo qui con noi, che io ringrazio veramente di cuore essere qui, tutti in ordine alfabetico, Anna Ferruta, Marisa Fimanò, Massimo Recalcanti, Silvia Vigetta Finzi, che in questo ordine si chiama di dare la parola a loro per sollecitare una discussione, una riflessione, una questione di tale rilevanza. Cominciamo con Anna Ferruta. Anna, grazie di nuovo per aver accettato l'invito. A te la parola. Buonasera. Io l'invito da parte della Casa della Cultura l'ho accettato con timore e tremore, ma con questo intento che la grande onda emotiva che ha suscitato questa distruzione di una comunità di persone che vivono tranquille, in pace, non mi permette di assumere una posizione utile per un approfondimento scientifico. Nessuno oggi può non sentirsi coinvolto di fronte ai bambini uccisi, ai giovani di entrambe le parti annientati nelle loro vite all'improvviso, allo spegnersi della quotidiana convivenza in città che portano il segno di un tentativo di coesistenza di diversi. e la diffusione dei mezzi di comunicazione, mettendoci sotto gli occhi lo strazio e la distruzione della vita umana, esige ancora più che nel passato, tuttavia, che non sostiamo nell'indifferenza, ma che ci lasciamo raggiungere da commozione e pietà. Quindi il mio intento, pur non avendo forse delle risposte naturalmente a delle domande così inquietanti, è per la mia presenza prevalentemente sollecitata dal desiderio di non sostare nell'indifferenza, ma di lasciarci tutti raggiungere da commozione e pietà una forma di immersione, comunque non di estraneazione, dal dramma da cui tanti esseri umani sono stati invasi. Ecco, perché sarebbe troppo comodo come intellettuali starsene fuori perché le risposte non le ha nessuno. Quindi la mia presenza è legata a quello che c'è nel Museo del Binario 21, una specie di raccomandazione estrema a non sostare nell'indifferenza. Ecco, e anzi questo incontro e questa conversazione di cui ringrazio Ferruccio Capelli, la Casa della Cultura, possono avere innanzitutto il senso di non isolarsi nella comoda posizione di estraneazione, ma al contrario di esporsi all'essere raggiunti dalla sofferenza indicibile di altri esseri umani come noi per far fronte al dolore e al senso di impotenza come si può. Questa è la premessa, ma che mi sembra necessaria. Nel mio intervento, che spero breve, Ferruccio, tu fermami quando esagero. Ecco, parto, essendo anche il primo, da alcuni punti presi dai due saggi di Freud e poi aggiungo qualche considerazione su quello che oggi può essere più attuale di questi saggi e infine, come io sono una psicoanalista clinica prevalentemente e quindi se gli psicoanalisti possono fare qualcosa, ecco, anche se di marginale, di minimo, in questa situazione così drammatica. E quindi comincio innanzitutto dai due saggi di Freud, già Ferruccio Capelli ha detto che sono stati scritti in due circostanze molto diverse. Il primo, considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte nel 1915. Freud nel 1914 aveva diritto entusiasticamente alla guerra, bisogna dire, e i suoi due figli Martin e Ernst si erano arruolati come volontari e quando lo scrive, questo saggio sono ancora come volontari, per circostanze complesse sopravvissero tutti e due alla guerra, sia Martin e Ernst. E quindi invece il saggio, quindi Freud il primo lo scrive in una situazione di grande turbamento emotivo. Vi leggerò qualche riga a cui ho dato questo titolo Annebbiamento, no? Ecco, Freud nel 15 apre il suo contributo osservando che presi nel vortice di questo tempo di guerra anche la scienza ha perduto la sua imparzialità, 1915. I suoi servitori esarcerbati nel profondo cercano di trarre da essa armi, quindi la scienza cerca di trarre dai suoi concetti armi per contribuire alla lotta contro il nemico. L'antropologo è indotto a dimostrare che l'avversario è un essere inferiore e degenerato. Lo psichiatra ha diagnosticato in lui perturbazioni spirituali e psichiche. Aggiunge ancora Freud, l'annebbiamento delle facoltà intellettuali che questa guerra ha spesso provocato proprio nei nostri migliori cittadini del mondo e quindi un fenomeno secondario, una conseguenza dell'eccitazione emotiva ed è perciò destinato sperabilmente a scomparire con essa. Ecco, quindi la prima osservazione è che mi sembra di poter dire che sicuramente l'emozione così profonda che questa guerra in Ucraina ha suscitato le immagini di questa disumanità così estrema annebbia le facoltà intellettuali. Di tutti si annebbiava quelle di Freud nel 1915 e dobbiamo tenerne conto. Pensare che una riflessione più approfondita la faremo per forza dopo e quindi ai nostri pensieri non dobbiamo attribuire un valore ultimativo. Ancora, nel saggio del 1915, Freud scrive parole che potrebbero essere scritte oggi e che rispecchiano del resto il mio, il nostro stato d'animo. Faccio un'altra breve citazione. La guerra a cui non volevamo credere è scoppiata. Direi che è proprio così. Tutti dicevamo, no ma è impossibile, oggi una guerra, scrive Freud. La guerra a cui non volevamo credere è scoppiata e ci ha portato la delusione. Essa infrange tutte le barriere riconosciute in tempo di pace e costituenti quello che è chiamato il diritto delle genti. Spezza tutti i legami di solidarietà che possono ancora sussistere tra i popoli in lotta e minaccia di lasciare dietro di sé un rancore tale da rendere impossibile per molti anni una loro ricostituzione. Perché una conseguenza delle guerre, oltre a distruzione, è lasciare dietro di sé un rancore, no? Che poi è questo che anche ci preoccupa, no? Ecco. E dice ancora, quando parlo di delusione, ognuno comprende immediatamente ciò che intendo dire. Dalle grandi nazioni dominatrici del mondo, nelle cui mani affidata la guida di genere umano, che sapevamo intente a perseguire gli interessi estendendosi al mondo intero, a cui erano dovuti progressi tecnici, sempre nel 1915, per il dominio della natura, nonché i valori della cultura, dell'arte e della scienza, da questi popoli almeno ci aspettavamo che giungessero a risolvere per altre vie i loro malintesi e i loro contrasti di interesse. Ecco, quindi l'annebbiamento, delusione e, come dire, pessimismo, perché gli uomini non imparano, potremmo dire, no? Ecco. E tuttavia Freud rimane uno scienziato che guarda a ciglio asciutto, direbbe Leopardi, il male che esiste. E nel 1932, adesso magari altri si soffermeranno sul saggio del 1915, ma i concetti contenuti sono quelli stessi che poi nel saggio del 1932 espone, quindi io mi soffermo su quello, ma anche mettendo in evidenza una cosa molto interessante. Einstein aveva ricevuto dalla Nazione Unite l'incarico di consultare degli scienziati che rispondessero a questa domanda. C'è un modo di parlare gli uomini della fatalità della guerra e Einstein, tra gli altri, consulta Freud. Ma perché lo consulta? Osserva Einstein, no? Dice, vi è una possibilità di dirigere l'evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino più capaci di resistere alle psicosi dell'odio e della distruzione. però, dice, io non penso che la cosiddetta intelligenza sia di aiuto perché l'intellettuale non ha contatto diretto con la realtà. Ecco, un ulteriore punto che mi sembra utile pensare è che la psicoanalisi, come le discipline che si occupano del vivente, la biologia, la sociologia, insomma, tutte quelle che si occupano del vivente, hanno in qualche modo una necessità di essere molto vicine agli esseri viventi. Se no, non capiscono niente come lo psicoanalista che deve essere molto vicino al suo paziente, entrare in empatia, ma insieme avere quel sufficiente distacco che permette di comprenderne le modalità di funzionamento. Quindi, in qualche modo, la tensione tra il necessario distacco del ricercatore e l'immersione nella realtà, forse quella che tentiamo di fare anche questa sera, immersione nel vivente e insieme un po' di distacco per cercare di non rimanerne completamente travolti e sopraffatti. Quindi, a distanza e a contatto per trovare via d'uscita. Per quanto riguarda il... perché in qualche modo non possiamo non dire che non siamo tutti coinvolti innanzitutto come membri di una comunità umana i cui valori fondamentali sono stati violati. Io penso che, ovviamente con intensità differente, questo evento della guerra nel 2022, questa guerra così distruttiva, in qualche modo riguarda, purtroppo, le persone che sono direttamente coinvolte, ma riguarda ognuno di noi in quanto ferisce i valori fondamentali che in cui ci riconosciamo come membri di una comunità umana. Ma allora aspetta a noi sopravvivere in una condizione, dico io come psicoanalista, in una posizione depressiva forte, cioè forte della condivisione della sofferenza e della pietà. Una posizione che comprende e osserva che il male esiste, ma senza che le nostre parti più violente trovino alimento, scivolando lungo il piano inclinato, in una posizione paranoide per sbarazzarci dalle parti violente che ci sono anche in noi e gettarle sugli altri. Quindi tento di riflettere assumendo una posizione depressiva forte della condivisione, della sofferenza, della pietà e una posizione che comprende e osserva che il male esiste. Nel saggio del 32 Freud propone le due risposte che intende dare ad Einstein e che riguardano il rapporto tra il potere e il diritto e la dialettica tra pulsioni di vita e pulsioni di morte, ma premette a queste osservazioni di un realismo pessimistico molto radicale questa metafora che mi sembra che ci illumina un po'. E quindi quando Freud analizza le pulsioni che conducono alla distorsione di altri misteri, ritiene che non sia impossibile proprio continuare nel processo di civilizzazione, tuttavia afferma, e lo cito, è triste pensare a mulini che macinano talmente ad agio che la gente muore di fame prima di ricevere la farina. Ecco questa metafora mi sembra come la scienza. La scienza su queste questioni lavora, macina le sue idee talmente piano che per ora la farina che si rende disponibile che arriva quando già la gente sta morendo di fame, ma con questo Freud mantiene una sua fiducia nella ricerca scientifica e nel processo di civilizzazione, una fiducia pessimistica, relativa, un pessimismo-ottimismo relativo, ma una certa fiducia è quella che dobbiamo avere alla fine del mio intervento. Quindi dirò alcune cose, qui Freud cosa dice? Alla domanda di Einstein che gli chiede i rapporti tra il potere e il diritto è radicale, dice che il predominio del più forte della violenza, bruta o sorretta dall'intelligenza, è lo stato originario dell'umanità. Il diritto sostituisce la prepotenza del singolo con la forza dell'unione di molti che si uniscono in comunità. Il trionfo sulla violenza mediante la trasmissione del potere a una comunità più vasta viene tenuto insieme dai legami emotivi che si stabiliscono tra i suoi membri. Bisogna ricordare, dice, un errore di calcolo non considerare il fatto che il diritto era in origine violenza bruta e che esso ancora oggi non può fare a meno di ricorrere alla violenza. E quindi questo è un sano pessimismo, no? Ecco, sostenendo, ma io mi chiedo sempre pensando se nel processo, questo non lo dice Freud, di civilizzazione c'è stato un miglioramento nell'esercitare in questo che il più forte si arroga il diritto di opprimere il più debole, no? Ecco, è qualcosa che anche ricorda il filosofo della scienza Paolo Rossi in un librettino intitolato Speranza, no? Per esempio, la violenza, diciamo, l'educazione dei bambini da parte dei genitori e degli insegnanti, dei docenti. Da quanto tempo non si usano più le punizioni corporali. Nella scuola abbastanza, nella vita familiare, ma non dei violenti, proprio come punizione educativa, è il dominio del più forte sul più debole. È così, ecco. Quanti di noi non hanno picchiato un bambino, ci possiamo chiedere, no? Ecco. È qualcosa che ci... È sempre il dominio del più forte sul più debole. Però la situazione è molto migliorata. Nelle scuole, senz'altro, no? Che la, diciamo così, la punizione corporale, questo fatto, del rapporto i genitori-figli, un pochino, almeno c'è l'idea che è sbagliato, no? Ecco. Oppure, la, diciamo, la pena di morte, no? Ecco. Cesare Beccaria scrive dei delitti delle pene nel 1764. Un pochino è migliorata, no? Perché gli Stati Uniti sono ancora stati che si... in cui il diritto costituito dall'associazione... del più forte, costituito dagli uomini che si associano insieme, si dando delle regole, permette ancora che qualcuno possa essere ammazzato da un altro uomo. e così, no? Ecco. Però è migliorato questo aspetto. Quindi, diciamo, per la prima argomentazione che analizza Freud nel perché la guerra, rispondendo all'interrogativo di Einstein, questo, il rapporto tra diritto e potere, riconosce che comunque il diritto è sempre fondato sulla violenza, soltanto che si associano più esseri umani, si stabiliscono delle regole alle quali devono attenersi. Che prospettive ci sono? Che un'autorità centrale regoli queste situazioni? Per adesso poche, come vediamo, le Nazioni Unite per ora sono in una posizione di debolezza. La seconda argomentazione che affronta Freud, per rispondere sempre alla domanda di Einstein, è quella, come mai è tanto facile infiammare gli uomini alla guerra? E Freud passa ad analizzare la pulsione dell'odio e della distruzione e propone la sua teoria, che in questi anni stava maturando, no? Ecco, dell'esistenza di una pulsione di vita e di morte, c'è una pulsione a conservare e a unire e una a dividere e a distruggere, ma affermando che sono entrambe indispensabili, perché i fenomeni della vita dipendono dal concorso e dal contrasto tra le due pulsioni, che agiscono sempre congiuntamente, per esempio la pulsione di vita, la pulsione di conservazione e di sessualità richiede un cosiente di aggressività, un quid di appropriazione e gli impulsi distruttivi sono spesso mescolati a impulsi ideali e erotici. Però l'importante è che siano il più possibili congiunte in una dialettica, le pulsioni di vita e le pulsioni di morte e quindi che cosa, no? Ecco, permette di tenerle congiunte, dice Freud? Sviluppare i legami emotivi tra le persone. Quali sono i legami emotivi tra le persone? Sono i legami di amore e di identificazione e quindi anche qui dà una certa speranza di futuro, no? Ecco, perché pensa che, per esempio, i processi di identificazione, in qualche modo identificarci con gli altri, cosa che in questo momento, per esempio, i mezzi di comunicazione di massa, di informazione ci potrebbero permettere, no? Facendoci vedere le persone che soffrono. In qualche modo permetterebbe di identificarci anche con le vittime, con coloro che soffrono e quindi cercare di rafforzare i legami, ma dopo Freud un aspetto che si è sviluppato nella ricerca sulla psiche degli esseri umani sono i neuroni mirror, no? Ecco, che hanno permesso di comprendere che vedere qualcuno che soffre, se noi ci manteniamo in una posizione di apertura e ci facciamo raggiungere dalla sofferenza, ci permette di provare anche noi una certa sofferenza, di comprendere e di offrire quindi un minimo di accoglienza a queste sofferenze senza, diciamo, chiuderci e esterilirci. Perché Freud osserva, sì, noi se lavoriamo per il processo di civilizzazione, cosa succede? Che la ragione tende a esterilirire le spinte pulsionali. Se noi imponiamo il governo della regione in un modo troppo duro, può darsi che qualche miglioramento lo otteniamo, ma d'altra parte assistiamo anche un esterilimento delle spinte pulsionali, no? Ecco, ma io mi chiedo, sarà possibile un'ulteriore evoluzione che non rappresenti solo, con il governo della ragione, che non rappresenti solo un inaridimento delle pulsioni che vengano sterilizzate, ma che permetta una dimensione dialettica che trovi forme per preservare l'espressione di pulsionalità di sé o di altro. Uno psicanalista, venuto dopo Freud, Donald Winnicott, ritiene che forse c'è una speranza di tenere vive insieme le pulsioni di vita e di morte e la relazione tra gli uomini, no? Combinandole in forme che permettano il rispetto delle regole e insieme la fruizione dell'alterità del mondo e dell'espressione della pulsionalità. Che cosa lo garantisce? In genere il gioco e l'attività artistica, il gioco e il teatro, ma l'avevano già detto i greci, però è abbastanza vero questo. Perché un problema è quello, non possiamo imporre una restrizione delle pulsioni sia di vita e di morte, tale che poi lo sviluppo della soggettività umana si sterilisce. Per esempio, dobbiamo ricordare che l'essere umano è un animale biologico che vuole sopravvivere insieme agli altri. Non dobbiamo tornare ad Aristotele che diceva che è un animale sociale, ma il problema è che l'essere umano è un animale biologico, è un animale che vuole sopravvivere stando insieme agli altri. Allora io mi sono interrogata, pensando ai rischi di sterilimento del governo della ragione, al fatto che troppo spesso ce ne dimentichiamo e forziamo le dimensioni dell'umana convivenza verso astrazioni, liste di procedure da seguire meccanicamente e ci allontaniamo dalla radice biopsichica interattiva che permette alla psiche di emergere dal corpo, come osserva Eugenio Gaddini in note sul rapporto mente-corpo. Le idee disincarnate finiscono per non interpretare la realtà del vivente, come invece hanno fatto Darwin e Freud, ma per inaridirla e privarla di quella linfa vitale che permette al vivente, come le piante, ricordiamo i studi di Mancuso, di cooperare. L'alternanza di pulsioni, di vite e di morte, di unione, di disgiunzione, di eros e di thanatos è vitale e iscritta anche nel corpo cellulare, come il fenomeno dell'apoptosi ci ha insegnato. La distruzione cellulare è fisiologica, ma diventa patologica quando c'è isolamento e disgiunzione costante, c'è un arroccamento da una parte degli aspetti di disgiunzione da quelli di congiunzione. Oppure ancora, e finisco poi, l'attenzione educativa si focalizza sulla realizzazione degli individui presi singolarmente in progetti di realizzazione narcisistica isolati dagli altri e dal contesto, dimenticando la radice relazionale e strutturale che sta alla base della formazione di ogni soggetto, che fa parte delle origini della vita, come testimonio nei sempre più numerosi studi sull'origine della vita psichica, dell'interazione necessaria del dialogo mente-corpo tra bebè e caregiver. René Caes, un altro psicoanalista nel libro Il malessere, ha approfondito molto questa questione della difficoltà a diventare io nel legame, che noi abbiamo un bisogno di realizzazione di sé, ma poi la vogliamo anche insieme agli altri e questo è un problema, perché la sopraffazione narcisistica è immediatamente alle porte. E Caes ha messo in evidenza che per diventare io nel legame è utile o necessario un cambiamento non solo nei soggetti, ma anche nei legami sociali in cui siamo immersi. Allora Caes richiama l'importanza dei garanti metapsichici e metasociali come condizioni necessarie perché gli individui possano vivere in gruppo. Cosa richiedono questi garanti metapsichici e metasociali? Di tenere conto dei patti narcisistici inconsci. Che cosa sono i patti narcisistici inconsci? Sono quei patti inconsci tra le persone che garantiscono contemporaneamente lo sviluppo dell'integrità dell'individuo e del gruppo di appartenenza senza chiedere a nessuno dei due un sacrificio che ne annienti la dimensione umana fondamentale. Questo è importante. Per esempio, prima che succedesse la pandemia, spesso negli ospedali si vede che certe situazioni per cui per raggiungere certe ambizioni di un primario o di una primaria si sottopone il personale a uno stress quindi per un ideale narcisistico non di cura a uno stress tale che le persone non collaborano più. Questo per fare un esempio terra a terra ma secondo me dobbiamo avere anche il coraggio di essere terra a terra. Quindi ogni attività che sviluppa l'Io nel legame richiede il rispetto di fatti narcisistici inconsci che permettono la realizzazione narcisistica di tutti i membri del gruppo e del gruppo stesso mentre degli ambizioni, la guerra è una di queste e sto per finire. Di conseguenza il problema con il quale penso alla psicoanalisi è che la psicoanalisi non è soltanto una scienza del soggetto ma anche una scienza dei legami tra i soggetti della loro natura, plasticità, duttilità e trasformabilità. Questa necessità di pensare alla psicoanalisi anche con una scienza dei legami è diventata una necessità proprio nel transito tra i due secoli sotto le sollecitazioni di inquietanti interrogativi posti dalla Shoah e dalle altre tragedie collettive adesso abbiamo anche questa dell'Ucraina che hanno intaccato e distrutto il legame di base interumano che consente di riconoscere nell'altro sia il simile, sia un aspetto di se stessi non ancora conosciuto, non integrato e non reso comunicativo. E se ho ancora un minuto? Poco. Per concludere lo dirò dopo per far vedere che ascolto anche gli altri dopo aver detto che la psicoanalisi è una scienza del vivente eventualmente vi leggerò una citazione del filosofo Iseia Berlin ti ascolto anche in filosofi. Grazie, grazie Anna Ferrutta. Grazie davvero. Devo dire, adesso diamo la parola subito a Marisa Fimano. Stengo doveroso dire che da Marisa è venuto il suggerimento di questo incontro. Penso che sia doveroso dirlo, questo riconoscerlo. E poi un'altra cosa che voglio dire come dire a me sono davvero colpito dalla quantità di persone che ci stanno seguendo. riportare le persone qui in sale è diventata una cosa faticosissima e finalmente come dire vedo che si sta riaffacciando si sta superando un po', tende a superare la paura insomma che ha accompagnato per due anni, due lunghi anni. Questa cosa non posso non notare anche francamente la vera e propria folla che si sta seguendo da remoto insomma per dire che proprio abbiamo azzeccato l'argomento. Marisa, a te la parola. Grazie. Mi è sembrato importante parlare come psicoanalista di questa questione della guerra perché io stessa ero presa come tutti diciamo nell'angoscia che ci assale e quindi volevo assumere un punto di vista fosse un minimo distaccato e un po' come dire complessivo, generale che suggerisce la psicoanalisi e soprattutto gli scritti di Freud ma anche che riprende Lacan. questi due scritti che poi penso che su tutti quanti ci riferiremo a questi due scritti di Freud uno del 15 del 1915 e uno del 1932 sono molto diversi fra di loro perché come ha detto bene Anna Ferruta il primo testo è un testo è un testo in cui a mio avviso Freud prepara quello che poi dirà in al di là del principio di piacere del 20 cioè le sue considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte sono piuttosto qualche cosa che prepara l'avvento della famosa seconda topica freudiana per quelli che non sono del mestiere è come dire quando Freud si accorge che i suoi pazienti ripetono, ripetono, ripetono cos'è questa ripetizione? questa ripetizione non è altro che l'insistenza della pulsione di morte e quindi è lì che Freud appunto elabora questa trova nella clinica questa dimensione della pulsione di morte e questo per quanto riguarda lo scritto del 1915 su cui poi ritornerò comunque invece in quello del 32 il carteggio con Einstein è molto diverso diciamo che è uno scritto che è piuttosto uno scritto pubblico uno scritto di impegno uno scritto in cui lui si espone Freud si espone e Einstein con lui perché spera che come dire un pronunciamento da parte di questo grandissimo scienziato e di questo ormai grandissimo psicoanalista possa servire a qualcosa cioè possa fermare non dico la guerra ma possa comunque essere trasmesso alle coscienze della gente che li legge e quindi come dire costituire un piccolo freno alla follia della guerra e tra l'altro Freud e Einstein sono tutti e due ebrei e quindi siamo quando viene pubblicato questo scritto nel 32 quindi alla vigilia del nazionale socialismo cioè della salita al potere di Hitler e Freud evidentemente ha già dei problemi perché ad esempio questo scritto questa risposta che da Freud viene vietata in Germania la pubblicazione cioè di questo scritto viene vietata in Germania mentre viene tradotta in altre lingue però in Germania è già vietata quindi nello scritto del 1915 Freud cerca di applicare alla guerra quelle che sono le scoperte della psicanalisi il nostro modo come lo chiama di considerare la morte cos'è questo nostro modo di considerare la morte di incredulità nessuno crede alla propria morte se non quando dice Freud constatiamo che muoiono persone care persone care persone parenti stretti moglie marito figli amici cari è soltanto allora che ci rendiamo conto che la morte esiste che ci può colpire quindi in questo scritto del 1915 come dicevo prima Freud prepara il suo al di là del principio di piacere ma anche gli scritti successivi cioè anche questo grande salto che Freud compie dalla prima alla seconda topica freudiana cioè il salto del 1920 al di là del principio di piacere è un salto che Freud compie proprio elaborando appunto questo concetto di pulsione di morte a partire appunto da queste prime elaborazioni che lui sta facendo in cui parla della morte reale ma successivamente elaborerà poi come dire una tendenza alla morte o comunque qualche cosa della pulsione di morte che ci abita che è presente in ciascun soggetto e che è anche al di là del principio di piacere il primo ostacolo alla cura alla cura analitica quindi lo scritto quindi c'è questa differenza fra questi due scritti lo scritto del 1932 cioè quello della risposta ad Einstein è sulla linea degli scritti che vengono definiti sociologici di Freud cioè Freud apparentemente usa in questo scritto più argomentazioni sociali che nozioni analitiche e quindi mentre nel primo scritto insiste sul tema della morte invece nel secondo scritto dopo appunto la svolta del 1920 la tensione di Freud è rivolta soprattutto all'aggressività alla violenza del singolo e del gruppo e proprio come succede per gli animali così gli esseri umani che sono ridotti durante la guerra ad uno stato di bestialità si servono delle armi e tra l'altro oggi le armi questa è una delle grosse differenze che c'era fra l'epoca di Freud e la nostra le armi sono armi anche se anche Freud parla di armi di istruzione di massa ma evidentemente non si riferisce alle armi atomiche che sono veramente armi di istruzione di massa e quindi sono armi di istruzione di massa con cui è possibile avere l'annientamento del nostro cosiddetto nemico ma anche la propria istruzione quindi è questo il paradosso diciamo che noi viviamo oggi e che Freud su cui Freud non poteva non poteva riflettere e in questo testo appunto del 1932 cioè nella risposta ad Einstein lui dice ipotizza perché cerca di dire delle cose che consolano un po' la gente che la sostengono anche in cui crede per carità però comunque cerca di trovare delle possibilità che la guerra che la guerra non ci sia e ad esempio cita un motto francese l'union fait la force dice lui cioè l'unione fa la forza vale a dire che ci sono dei casi in cui l'assoggettamento del nemico non può avvenire e cioè quando i più deboli si uniscono e diventano tanti e in questo modo osteggiano la violenza del singolo quindi potremmo anche pensare un analogo nella nella lotta degli ucraini ma insomma non mi sbilancio adesso su queste questioni che sono molto controverse e molto complicate ma questa unione dei più deboli però dice Freud non deve essere come dire lasciata al caso deve poi dotarsi di regole e di leggi quindi in qualche modo prefigura una forma democratica tra virgolette di regolazione interna di regolazione dei rapporti degli uomini fra loro e e quindi ipotizza che l'unione degli oppressi possa entrare in contrapposizione con la violenza dei singoli quindi in qualche modo le moderne democrazie ma anche nel caso anche nel caso appunto del di una possibile democrazia anche in questo caso però il conflitto di interessi non è escluso e Freud dice in qualche modo che ci sono delle disuguaglianze e noi possiamo aggiungere che sono strutturali fra gli esseri umani in questo caso evidentemente nel caso delle guerre anche disuguaglianze territoriali disuguaglianze economiche e così via ma ci sono anche delle disuguaglianze dell'uno rispetto all'altro e sono disuguaglianze questo almeno è l'idea che se ne fa la psicanalisi disuguaglianze ineliminabili strutturali e e poi dice Freud la guerra non è inevitabile nel senso che ad esempio ci sono state guerre che hanno contribuito alla pace un paradosso che lui ci propone ad esempio le guerre dei romani che hanno unificato enormi imperi per stabilire quella la famosa pax romana sui loro popoli quindi cerca di come dire di di sostenere il suo discorso dando delle possibilità quindi non è così negativo diciamo come nel nel primo scritto del del 1915 ma cerca appunto di fare un discorso un discorso pubblico un discorso anche politico cercando di dire appunto quello che è possibile fare per evitare la guerra ora a me sembrano queste tesi di Freud del 32 piuttosto esitanti piuttosto incerte piuttosto parziali non è uno dei suoi scritti migliori bisogna pensare anche che Freud nel 32 ne ha passate veramente tante povera sia personalmente affettivamente morta la figlia i figli sono andati in guerra ha vissuto la prima guerra mondiale il cancro alla mascella eccetera eccetera quindi quindi è la ragione che gli dà forza e che gli impedisce di cadere nel pessimismo e quindi risponde ad Einstein con questa idea di una risposta di dargli una risposta che esprima anche la sua stima che esprima anche il suo il suo rispetto per questo grande scienziato ma mi sembra che non abbia molto da dire che il suo discorso riprenda la sua verve la sua la sua vivacità quando lui ricorre agli strumenti che si è dato con la psicanalizia e quindi quando parla appunto di pulsioni contrapposte di pulsioni di vita e di pulsioni di morte di pulsioni erotiche che uniscono e di pulsioni di morte che invece che invece disgregano e soprattutto ci dice che queste pulsioni sono loro stesse legate fra di loro che quindi la pulsione di vita contiene forse ce lo dirà meglio Massimo Recalcati che la pulsione di vita perché si è molto occupato lui e il suo gruppo di analisti di questa questione sono molto mescolate fra di loro l'amore e l'odio sono strettamente mescolate fra di loro ora quello che che mi sembra centrale nel testo di Freud è che Freud sottolinea il fatto che della presenza negli esseri umani di quella che lui chiama la pulsione distruttiva che è come dire una specie di punta massima della pulsione di morte di punta estrema della pulsione di morte la pulsione distruttiva è qualcosa di cui si è occupato anche Lacan Lacan si è occupato evidentemente di questi scritti di Freud naturalmente si fa sentire come ma in particolare se ne è occupato che io sappia nei quattro concetti fondamentali della psicanalisi cioè nel seminario nono e nel seminario settimo cioè nel seminario sull'etica della psicanalisi che è un seminario bellissimo non solo ma è un seminario che Freud avrebbe scusate Lacan avrebbe voluto scrivere di suo pugno avrebbe voluto scrivere lui stesso e Lacan ci dice che Freud ha delimitato un campo così lo chiama e definito un punto d'abisso che solo gli eroi possano possono consapevolmente attraversare e infatti la protagonista diciamo la grande protagonista del seminario sull'etica di Lacan è Antigone cioè un'eroina che va volontariamente alla morte per difendere un'altra legge che è la legge degli dèi una legge per cui un fratello morto non può essere lasciato morire fuori dalle mure della città ed essere un cadavere non sepolto bisogna seppellirlo e questa è la legge che Antigone propone che Antigone impone in qualche modo a Creonte e per cui poi naturalmente viene condannata a morte e in questo suo essere condannata a morte diventa eroica ora Antigone però è animata da una pulsione che è autodistruttiva ma anche da un desiderio e da un desiderio che si scrive in una legge allora qual è la differenza invece con la distruttività con la distruttività con quella che Lacan chiama destrudo cioè usa il termine latino per parlare di questa distruttività e la chiama appunto destrudo invece mentre per Antigone non era semplicemente un cupio di solvi una voglia di morire quello di andare a morire dentro chiusa dentro una caverna ma lei difendeva qualche cosa in cui credeva che eticamente era valido invece nella nella destrudo di cui parla Lacan c'è come dire una volontà di distruzione qualcosa di una volontà di distruzione che in qualche modo è fuori simbolico mentre appunto Antigone è nel simbolico perché difende un'altra 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 legge un'altra norma un'altra etica e invece questo distrudo è fuori simbolico Freud chiama più che di civilizzazione lui la chiama anzi no precisa anche lui parla di incivilimento e dice alcuni la chiamano civilizzazione non ho riflettuto bene su questa differenza ma incivilimento mi fa pensare piuttosto a qualche cosa che ha a che fare con gli animali perché incivilimento è un'operazione che rende che fa passare dalla bestia all'essere umano e quindi questa opera di incivilimento dovrebbe consistere appunto nel dare una cornice simbolica al mondo e a evitare appunto questo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e vi leggo un passaggio di Lacan in cui lui traduce a suo modo Freud dice Lacan l'uomo e l'etica della psicanalisi l'uomo cerca di soddisfare il proprio bisogno di aggredire a spese del suo prossimo di sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo di servirsene sessualmente senza il suo consenso di impossessarsi dei suoi beni di umiliarlo di farlo soffrire di torturarlo e di ucciderlo e Lacan nota che questo brano potrebbe far parte benissimo di un potrebbe essere potrebbe far parte benissimo dell'opera di Desad perché è effettivamente è sadico è una descrizione sadica dell'essere umano e Freud dice da controcanto questa è una traduzione letterale di Freud questa crudele aggressività è di regola in attesa di una provocazione di una provocazione oppure si mette al servizio di qualche altro scopo che si sarebbe potuto raggiungere anche con mezzi meno brutali in circostanze che le sono propizie quando le forze psichiche contrarie che ordinariamente la inibiscono e cessano di operare essa si manifesta anche spontaneamente e rivela nell'uomo una bestia selvaggia alla quale è estraneo il rispetto per la propria specie allorché gli animali tendenzialmente non aggrediscono non ci sono aggressioni negli animali intraspecie in generale mentre gli uomini sì e questo passaggio che vi ho letto è Freud ed è il disagio nella civiltà quindi l'unica possibilità che intravede Freud nel proteggere gli umani è dall'aggredirsi l'uno con l'altro dallo sbranarsi a vicenda è l'incivilimento l'unico argine che ci trattiene dalla distruttività dalla crudeltà dall'aggressività che ha come oggetto il corpo del mio prossimo come ad esempio succede per i femminicidi tra l'altro e Lacan descrive questa dimensione di destrudo cioè di strage di anomia come la chiama lui della guerra anomia cioè di senza legge della guerra lo descrive con un quadro con un telero che si trova nella chiesa di San Giorgio agli schiavoni a Venezia e che è un dipinto del carpaccio che descrive San Giorgio e il Drago San Giorgio e il Drago rappresenta appunto San Giorgio che lotta contro il Drago e tutti sparsi per terra il telero è un quadro molto grande di grandi dimensioni che si trova in questa chiesa è un diciamo una struttura una una grandezza tipicamente veneziana il telero appunto quindi questo quadro del carpaccio ha sotto sulla base c'è San Giorgio e il Drago che fa la protagonista diciamo di questo quadro e poi sulla base a terra ci sono tutti pezzi di corpi sparsi pezzi di corpi pezzi di membra corpi smembrati è questa l'anomia della guerra è questo che Lacan usa per mostrare quello che lui intende per anomia della guerra cioè anomia a alfa privativo e nomos che vuol dire appunto legge cioè il fatto di essere fuori legge quindi a questa pulsione distruttiva noi possiamo opporre soltanto una pulsione erotica cioè quella che fa legame quella che si manifesta nella vita amorosa ma Freud dice non lo dice Freud ma Lacan lo riprende commentandolo ma Freud appunto in questa risposta ad Einstein non sa dare delle vere soluzioni non sa dare però dice una cosa dice una una dichiarazione deve farla noi pacifisti noi pacifisti non possiamo che essere tali perché l'opera del processo di civilizzazione ci rende intolleranti queste sono parole di Freud ci rende intolleranti ad ogni guerra il pacifismo di Freud quindi è un pacifismo strutturale lui dice costituzionale il pacifismo di Freud è costituzionale e lo dice in questa lettera ad Einstein quindi è un pacifismo costituzionale ed ogni progresso nella direzione dell'incivilimento è qualche cosa che va contro la guerra poi vabbè io ho riletto oltre che il testo di Boringhieri anche questo testo di Freud per affezione questo testo che considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte che è stato pubblicato evidentemente dopo che i dritti dell'opera di Freud erano scaduti che ha una prefazione di Mario Spinella questo è elettori riuniti non ci sono più i dritti Boringhieri Mario Spinella che voi sicuramente non conoscete tranne i più anziani era un grande intellettuale comunista che ha fatto la ritirata di Russia era un uomo delizioso devo dire una persona squisita che appunto che aveva aggiornato in questo modo la la posizione di Freud dicendo che quando lui scrive questo testo siamo credo nel 92 perché lui credo che sia morto intorno agli anni 90 e quando lui scrive c'era una grande paura dell'atomica poi vabbè l'abbiamo eliminato le centrali nucleari ma c'era una grande paura dell'atomica e quindi lui parla di questa di questa di questa di questa paura dell'atomica e dice che malgrado questo malgrado la paura dell'atomica le reazioni individuali e di massa al pericolo al pericolo della guerra non sono così grandi forse lui dice la via della scelta pacifista per il singolo non è poi così pacifica non è poi così naturale quindi l'atomica non basta come deterrente e il pacifismo non è affatto naturale fra gli uomini quindi in conclusione questo testo di Freud della risposta ad Einstein è una dichiarazione di intenti è un tentativo di distemperare l'amarezza è un tentativo di dare una speranza ai suoi contemporanei ma questa opera di incivilimento come la chiama Freud può facilmente sfuggire di mano si può facilmente inceppare e siamo esposti al ritorno alla barbarie siamo tutti esposti al ritorno alla barbarie e quindi la possibilità che noi abbiamo l'unica possibilità che abbiamo è quella di tenere ben saldo il cordone del simbolico perché siamo bestie feroci è vero come dice Freud aggrediamo il nostro prossimo ma abbiamo qualche cosa di diverso dagli animali cioè parliamo quindi quando insistiamo tanto quando insistono tanto sulla funzione delle diplomazie perché la funzione diplomatica si esprime appunto attraverso il dialogo attraverso la parola ed è questa l'unica arma che noi abbiamo e che dobbiamo usare e concludo dicendo ricordandovi che esisteva un analista che si chiamava Mustapha Safouan che è stato uno dei primi analisti i primi seguaci di Lacan che aveva già fatto un'analisi freudiana per conto suo quando ho conosciuto Lacan ma lui è morto centenario da qualche anno è morto veramente molto vecchio che aveva scritto un libro che si chiamava La parole l'amour era prego egiziano scriveva in francese la parola o la morte quindi o la parola o la morte grazie grazie Marisa grazie Marisa vedo che stiamo anche con i tempi stiamo procedendo bene siamo perfettamente la parola adesso a Massimo Recalcati Massimo grazie per essere qui con noi da remoto ma a te la parola intanto vi saluto tutti saluto Anna Ferruccio Ferruccio ringrazio Marisa per questo invito e abbraccio virtualmente Silvia che non vedo da un po' di tempo perdonate la mia voce che è un po' sofferente spero che voi mi sentiate mi sentiate bene io vi farò un ragionamento un ragionamento diciamo che è stato ispirato dalla rilettura di questi due testi che sono già stati ampiamente diciamo commentati e farò un ragionamento che come vedrete ha come punto cruciale centrale il tema del lutto e il tema del rapporto tra la dimensione della violenza e quella del lutto vorrei partire da una considerazione che mi ha diciamo suscitato l'ultimo intervento quello di Marisa la parte conclusiva del suo intervento quando accennava la diplomazia e dunque a come la parola possa intervenire per appunto stemperare mediare attutire la violenza Deleuze dice che dove c'è violenza dove c'è guerra necessariamente non c'è parola e il titolo emblematico del libro di Safuan che Marisa ha ricordato riflette questa antinomia dove c'è legge della parola potremmo dire dove c'è la parola e la sua legge non c'è la guerra dove c'è la guerra viene a mancare la parola e la sua legge aggiungo subito perché questo sarà un po' il filo del mio ragionamento che la legge della parola non può prescindere dall'esperienza del lutto che tra parola e lutto esiste diciamo così una continuità profonda e ogni volta che si rigetta il rapporto tra il lutto e la parola si innesca la ferocia della violenza e della guerra Anna Ferruta giustamente ha ricordato un passaggio dello scritto del 1915 su cui mi ero soffermato anch'io quando Freud evoca la delusione che la guerra provoca in noi in tutti noi come dire siamo proprio così siamo quella roba lì siamo quelle bestie la guerra come dire ci delude nella misura in cui erode ogni rappresentazione idealizzata dell'umanità ogni retorica dell'umano ma ancora di più Freud già nel testo del 15 in fondo ci suggerisce qualcosa di ancora più radicale la guerra è davvero la disumanizzazione dell'uomo la guerra è davvero la regressione dell'uomo alla ferocia animale oppure come io penso pensi Freud la guerra rivela la dimensione criminogena dell'uomo cioè rivela il rapporto ineludibile dell'uomo con la violenza non c'è regressione all'animale ma c'è piuttosto manifestazione della dimensione criminogena dell'umanità questo Freud lo dice a chiare lettere nello scritto del 1915 dove faccio due brevissime citazioni saranno le uniche citazioni che faccio quando dice la storia primordiale dell'umanità è piena di assassini ancora oggi quella che i nostri figli imparano a scuola come storia universale dell'uomo non è in realtà altro che una lunga serie di uccisioni fra i popoli ancora di più anche noi tutti noi considerati in base ai nostri inconsci moti di desiderio altro non siamo come gli uomini primordiali che una masnada di assassini quindi il giudizio di Freud è radicale non lascia scampo gli uomini fanno la guerra hanno sempre fatto la guerra continueranno probabilmente a fare la guerra perché c'è qualcosa di criminogeno che definisce l'umano in quanto tale e allora è su questa dimensione radicale strutturale diciamo così dell'inconscio criminogeno potremmo dire dell'umano che vorrei riflettere rapidamente perché siamo tutti assassini nell'inconscio dice Freud innanzitutto perché siamo tutti assassini perché la violenza se volete l'assassinio se volete la guerra assomiglia all'allucinazione che cos'è l'allucinazione dal punto di vista clinico l'allucinazione scrive Freud in altri testi è una soddisfazione per via breve mentre le nostre soddisfazioni non allucinatorie implicano un cammino tortuoso implicano il lutto diciamo così della cosa originaria del godimento implicano la mediazione implicano il confronto con l'altro implicano il differimento della scarica pulsionale implicano l'esperienza dell'insoddisfazione dell'ostacolo della castrazione beh l'allucinazione porterò la pulsione a soddisfarsi per via breve come in un colpo come in un solo colpo e questa è l'illusione della violenza risolvere i problemi che portano con se stessi una complessità con un taglio unico secco con un solo colpo un colpo di cannone questa assimilazione dell'allucinazione della guerra all'allucinazione implica il rigetto del lutto se volete questa è una definizione anche clinica dell'allucinazione abbiamo allucinazione quando abbiamo forclusione del lutto l'esempio che fa Freud è molto chiaro quando in un vecchio scritto diciamo in un vecchio scritto fa l'esempio della mamma che ha tra le braccia un pezzo di legno che chiama con il nome della sua bambina morta alla nascita Freud dice si tratta di una sostituzione allucinatoria la madre anziché compiere il dolorosissimo lavoro del lutto anziché incamminarsi nell'atrocità di questo lavoro preferisce la via allucinatoria sostituisce la sua bambina morta con un pezzo di legno questo accade accade nella guerra non è raro rintracciare in ogni guerra a fondamento di ogni guerra un'esperienza di perdita un'esperienza di lutto ci tornerò su questo punto anche perché la mia lettura personale di quello che sta accadendo in Ucraina come dire è il paradigma di questa concezione della guerra ci tornerò fra pochissimo esiste un nesso tra la pandemia e la guerra che ci interessa in questo dibattito secondo me e che riguarda quello che Freud soprattutto nello scritto del 1915 definisce come ma poi riprende anche nella riscosta Einstein definisce come la nostra ambivalenza nei confronti dei nostri simili la pandemia ci ha come dire messo di fronte a questa ambivalenza a cielo aperto traumaticamente ci ha insegnato cioè che da una parte noi siamo nulla senza l'altro che Eros è spinta verso l'altro che l'altro è il nostro ossigeno che non esiste vita umana senza legame con l'altro che non esiste vita umana se non nella socialità con l'altro ma al tempo stesso ci ha rivelato che l'altro è luogo di una minaccia mortale l'infezione luogo di trasmissione della morte luogo di un pericolo e di una perturbazione permanente del nostro equilibrio della nostra identità questo doppio statuto dell'altro che la pandemia diciamo così ha esasperato enfatizzato è il tema degli scritti di Freud noi abbiamo con l'altro un rapporto di ambivalenza perché appunto da una parte siamo nulla senza l'amore per l'altro senza l'amore dell'altro Eros è appunto il nome che riassume questo legame generativo necessario con l'altro ma dall'altra ecco la tesi sconcertante di Freud che appare nello scritto del 15 dall'altra l'altro in quanto straniero è nemico questa equivalenza tra lo straniero e il nemico è un punto cardine di tutta la riflessione di Freud anche l'ontogenesi della vita umana si radica su questa equivalenza basta rileggere per esempio pulsioni e loro destini per vedere come la nascita della vita alla vita implica la percezione del mondo del mondo non dell'altro ma del mondo stesso come un fattore di perturbazione di disequilibrio di angoscia la vita cioè nasce viene alla vita difendendosi dal pericolo della vita la vita viene alla vita animata da una pulsione securitaria da una pulsione di autoconservazione e non è un caso che la pulsione di morte sorga come radicalizzazione della pulsione di autoconservazione cioè più noi ci difendiamo dalla vita più noi cerchiamo di allontanare diciamo così il mondo come straniero e come nemico più noi cerchiamo di difenderci dalla ostilità dell'altro quindi più noi cerchiamo di autoconservarci più noi cerchiamo di immunizzarci di fronte al pericolo sconcertante della contaminazione con l'altro più noi fabbrichiamo la nostra morte questo è il paradosso su cui che secondo me Freud indica molto bene la spinta alla difesa dalla dallo straniero come nemico definisce la pulsione di autoconservazione ma la pulsione di autoconservazione alla sua radice è pulsione di morte questo mi pare il punto più più diciamo più radicale più scandaloso della della riflessione di Freud che poi investe il tema della guerra io cioè distruggo il nemico per difendermi aggredisco per difendermi ma mentre distruggo il nemico per difendermi mi autodistrugge come dire c'è un nesso da cui noi non possiamo evadere tra la spinta alla distruzione e la spinta all'autodistruzione la spinta alla distruzione per difendere la nostra identità coincide con la spinta all'autodistruzione questo è il paradosso se volete sociale della pulsione di morte e non è un caso Marisa evocava giustamente la dimensione atomica della guerra contemporanea quantomeno evocata perché nella guerra atomica come già Franco Fornari ci tornerò faceva notare in un libro straordinario di grandissima attualità come psicoanalisi della guerra siamo nel 1966 in piena guerra fredda e la riflessione che Fornari faceva sulla guerra atomica in fondo toccava questo punto su cui stiamo ragionando cioè l'idea che l'estrema potenza di offesa o di difesa della guerra Putin invoca la guerra atomica come difesa della Russia se la Russia verrà minacciata faremo ricorso alla bomba atomica ma il paradosso della guerra atomica è che si tratta di uno strumento di assoluta onnipotenza che però si rivolge contro se stesso inevitabilmente fatalmente nella guerra atomica non ci sarebbe nessun vincitore se volete questa è la differenza profonda tra l'angoscia nevrotica che Freud scrive nel 1915 di fronte al fatto che la guerra ci rivela quello che noi ordinariamente cerchiamo di nascondere cioè il nostro destino mortale quindi la nostra castrazione dall'angoscia psicotica che invece caratterizza questo tempo cioè l'idea che non è più al centro il nostro rapporto con la morte con la castrazione ma la morte la fine la distruzione della terra la fine della vita ecco allora approfondisco questo punto non prenderò molto tempo perché parlare diciamo dall'esterno è sempre un po' faticoso poi parlo guardando la mia faccia dunque è ancora più difficile faccio un ultimo approfondimento diciamo su questo punto citando appunto la psicanalisi della guerra di Franco Fornari ma soprattutto citando la sua tesi che non è affatto estranea soprattutto lo scritto del 1915 anzi la mia ipotesi è che Fornari questo testo di Fornari sia una larga ampia elaborazione di questo scritto ricordo la sua tesi molto rapidamente la guerra è l'elaborazione solo paranoica del lutto quindi la guerra sarebbe appunto come l'allucinazione aggiungo io la guerra sarebbe come l'allucinazione l'elaborazione paranoica solo paranoica del lutto di quale lutto? Beh Fornari fa diversi esempi e li fa tutti che hanno a che fare con le civiltà primitive fa l'esempio per esempio appunto di una tribù muore il figlio del re di questa tribù il dolore per questa morte è insopportabile non c'è possibilità di lutto dunque si attribuisce allo sciamano della tribù confinante il sortilegio che ha fatto morire il figlio del re al posto dell'elaborazione impossibile del lutto abbiamo lo scatenamento della guerra ma in realtà i riferimenti potrebbero essere molto più facilmente se volete alla storia contemporanea alla vittoria mutilata da cui sorge il fascismo ai trattati di pace che hanno come dire schiantato l'economia tedesca prima dell'affermazione di Hitler e oggi al lutto della grande Russia che Putin non è in grado di fare che il suo paese non è in grado di fare perché non è in grado di passare all'unica forma di governo che si istituisce sull'esperienza del lutto perché questa è la democrazia la democrazia è l'unica forma di governo che assume su di sé quella che Ferrutta definiva diciamo clagnanamente una posizione depressiva cioè che non c'è una sola verità che non c'è un solo popolo che non c'è una sola lingua che non si darà mai una sola verità un solo popolo una sola lingua se volete questo è il punto di contatto profondo tra le riflessioni di Freud e la Torah Freud conosceva molto bene in particolare i versetti della Torah dedicati alla Torre di Babele dove si vede bene che lì la guerra nei confronti di Dio viene scatenata da un sogno di onnipotenza costruire una torre che arrivi a sfidare la potenza di Dio che raggiunga il cielo e soprattutto istituire un unico popolo un'unica lingua rendendo impossibile la convivenza con la differenza come reagisce il Dio ebraico al sogno onnipotente dei Babelici beh attraverso l'unico modo possibile che potrebbe evitare diciamo lo scandalo allucinatorio della guerra cioè la democrazia obbliga i Babelici all'esperienza democratica della traduzione Walter Benjamin lo dice molto bene in uno scritto in Angelus Novus a proposito del compito del traduttore dice in fondo la democrazia l'esperienza anche psichica della democrazia che la psicanalisi incarna in fondo la psicanalisi dovrebbe essere esperienza della vita psichica come vita democratica diciamo così come una sorta di parlamento interno ebbene Benjamin definisce la democrazia come la necessità l'obbligo della traduzione cosa vuol dire obbligo della traduzione vuol dire lo dico con i miei termini vuol dire lutto per la lingua unica lutto per l'autocrazia lutto di ogni forma di dittatura lutto per l'uno la democrazia è effettivamente questa esperienza del lutto che è l'unico antidoto nei confronti dell'allucinazione dell'allucinazione della guerra concludo con una citazione di uno tra i più almeno per me tra i più interessanti psicanalisti viventi che è Christopher Bollas quando Bollas dà questa definizione della mente democratica quando dice in fondo come funziona una mente democratica beh funziona evitando potremmo dire lo dico io non lo dice Bollas evitando il solo grande peccato che la Torah mette in rilievo che noi oggi vediamo drammaticamente in primo piano nella guerra della Russia contro l'Ucraina e cioè l'unico peccato al di là della moltiplicazione fenomenica delle prescrizioni dei limiti delle soglie in realtà nella Torah esiste un solo peccato una sola follia una sola versione perversa del Devederio che è quella di farsi Dio che è quella di farsi simile a Dio di quella di assimilarsi a Dio ecco l'illusione dell'atomica sostiene questa assimilazione perversa dell'uomo a Dio e dunque sostiene la morte della democrazia allora Bollas dice la mente democratica funziona escludendo questa possibilità cioè escludendo la possibilità dell'esistenza di una sola lingua e dunque funziona non per scissioni per contrapposizioni per non per proiezioni appunto la paranoia come soluzione del dramma del lutto ma lo dico sempre con i miei termini soggettivando l'esperienza del lutto e come si soggettiva l'esperienza del lutto beh si soggettiva non attraverso le scissioni ma attraverso integrazioni attraverso inclusione è quello che chi decide per la guerra non è in grado di fare non è in grado di fare perché non è in grado di elaborare il lutto nel caso di Putin per esempio per la grande Russia per la Russia imperiale non è in grado di accettare le leggi della democrazia grazie grazie Massimo la parola Silvia Buonasera a tutti non sarà facile intervenire a questo punto sia perché è molto tardi ma soprattutto perché le relazioni che mi hanno preceduto sono state così intelligenti profonde ed esaustive che sarà molto difficile aggiungere qualche cosa ma cercherò di essere rapida questa è l'unica cosa che posso fare dirò che mi ero proposta di parlare supponendo che gli altri oratori avrebbero affrontato i saggi che avete sentito di un altro libro che è Psicoanalisi delle nevrosi di guerra che è stato tradotto in italiano e ultimamente l'anno scorso proprio che trovate qui in vendita che si chiama invece Psicoanalisi e guerra che è stato tradotto dalla casa editrice Mimesis nel 2021 e questo forse per stabilire anche per sottolineare che oltre alla cura delle nevrosi non è soltanto un libro clinico ma esiste anche un aspetto riflessivo un aspetto speculativo e che cosa accade si riferisce a una cosa molto precisa un fatto molto preciso nella storia della psicanalisi che si stabilisce un congresso un congresso molto importante nella storia della psicanalisi a Budapest e questo congresso intervengono tra gli altri alcuni tra i maggiori forse i maggiori allievi di Freud in quel momento ricordo che siamo nel 1918 1918 voglio confermare sì 19 anzi 1919 e questi sono Sandor Ferenzi Karl Abram Ernest Simmel che è un medico a questo punto è soltanto un medico psichiatra che poi diventerà psicanalista quindi il libro è molto interessante prevalentemente clinico quindi non è un testo freudiano ma un testo un saggio della prima generazione degli allievi di Freud e quello che mi ha stupito leggendolo è stato il fatto che pur essendo una raccolta di interventi molto intelligenti molto opportuni sia perché siamo alla fine della prima guerra mondiale della grande guerra sia perché il movimento psicanalitico sta per uscire proprio in questo congresso dalle strettoie della minoranza ebraica viennese e per venire a contatto con ciò che Freud haveva sempre sperato cioè con la scienza dell'epoca ma non solo incontra la scienza dell'epoca ma anche le grandi autorità militari dell'epoca e quindi è doppiamente per lui di conforto e di istituzionalizzazione del suo sapere perché si incontrano con tanta pompa magna in fondo con tutta questa rappresentazione Freud e la figlia Anna saranno accolti per la prima volta con grande pompa avranno dei ricevimenti dei pranzi non erano abituati a una simile accoglienza che cosa è in gioco? Sono in gioco le nevrosi di guerra una grande emergenza in quel momento sentita da tutti e due diciamo i contendenti da tutti i due fronti della guerra le nevrosi di guerra che indeboliscono gli eserciti perché colpiscono molti combattenti e impedendo appunto sia la continuazione la forza della guerra sia anche quello che era un grande costo sociale delle assicurazioni delle ospedalizzazioni quindi è un momento di emergenza sociale la psichiatria positivista si era impegnata profondamente cercando come era nel suo schema scientifico di trovare le cause organiche di questa di questa nevrosi le cause organiche non si trovano perché non ci sono e Freud pensa tutto contento che finalmente sarà il momento di affermare la capacità terapeutica della psicoanalisi che è il momento giusto e così parleranno gli oratori che ho citato ma quello che mi ha stupito in questo e vi riprendo un po' gli argomenti che mi hanno preceduto è il fatto che questi oratori non danno alcun sentore pur parlando di guerra dal punto di vista delle nevrosi di guerra di alcune quindi delle doppie vittime della guerra cioè quelli che erano combattenti e per giunta erano feriti soprattutto nel modo più difficile cioè nella psiche ma sembra che questi grandi psicanalisti non prendano minimamente atto del fatto che Freud nel 1915 aveva parlato delle considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte di cui tutti hanno da cui tutti hanno tratto spunto in modo molto molto forte ora ricordo che questo saggio me l'hanno già detto altri d'altra parte tutto quello che dirò è già stato quasi forse l'ultima parte no ma quello che dirò sulle considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte sono già state prese in atto ma d'altra parte io penso che siano più importanti del carteggio Einstein Freud perché in fondo quest'ultimo è un pensiero addomesticato è un pensiero educato mentre trovo più interessante più in un certo senso coinvolgente in un certo senso più un invito a pensare quello che è in questo saggio che per certi aspetti sembra debordare appunto dalla razionalità freudiana è un saggio che forse io mi rivolgo alle psicanaliste a tante volte dello psicotico nell'accento ma proprio per questo trovo più interessante e quello che volevo sottolineare è che qui si parla del conflitto con la verità Freud ci sta dicendo una cosa molto importante cioè guardate che se vogliamo andare a fondo della questione della verità dobbiamo abbandonare le consolazioni c'è qualcosa di insopportabile nella verità che la psicanalisi mette in atto perché non sarà mai completamente accettata c'è qualcosa di inesauribile qualche cosa che non verrà mai elaborato fino in fondo c'è qualcosa di insopportabile e dirà sinceramente guardate che quello che io penso dirà in questo saggio non lo sopporto neppure io lo trovo intollerabile cioè l'aspetto eversivo della psicanalisi è difficile da sostenere sono illuminazioni lo dirà anche la Conde noi non viviamo sempre nella illuminazione psicanalitica nella sovversione del soggetto operata dalla psicanalisi perché abbiamo una tendenza a ritornare in realtà alla forma classica del soggetto prevalentemente razionale alla forma diciamo dell'uomo rinascimentale e questo perché è per noi più idealizzante più consolatorio l'umanesimo ci piace di più rispetto alla subversione alla rivoluzione psicanalitica però guardate dice Freud qui almeno così io lo leggo che se volete cogliere davvero la verità dovete rinunciare alle vostre consolazioni in un certo senso dovete andare oltre voi stessi dovete debordare uscire da voi potremmo dire impazzire leggo alcune cose quindi ora ci troviamo è stato detto più volte di fronte a un'interminabile equazione a ripetere è chiaro che quelle guerre che pensavamo concluse e negli anni di pace che abbiamo alle spalle pensavamo di essere usciti per sempre non è così quest'ultima guerra ci pone di fronte a un fatto ineluttabile al fatto che le guerre continuano che la guerra prima o poi succede un'altra guerra questo è aveva detto Carlo Sini qualche sera fa proprio proprio qui diceva sconsolato non si impara mai niente ecco questo è il fatto che proviamo di fronte alla guerra quindi è già stato detto Freud nel 1914 viene colto da una fiammata di entusiasmo nazionalistico dice io mi sento che il mio cuore è austro-ungarico ma poi man mano quando la guerra procede questo entusiasmo cala e subentra come vedremo amarissime constatazioni no le leggo un momento non dal testo del 1915 ma da una lettera che in quelli stessi anni Freud scrive a un amico olandese a uno psicanalista olandese con cui tiene una corrispondenza scrive questo dice sono convinto che la guerra manifesti gli impulsi primitivi e selvaggi dell'umanità che continuano a vivere seppur rimossi nell'inconscio di ogni individuo aspettando l'occasione per potersi riattivare c'è sempre un pretesto quando è un momento di poter dichiarare guerra e io penso questo non so se è mio personale o quello che ho tratto dagli testi della psicanalisi che l'aggressore sia sempre convinto di difendersi quindi sia quello che uccide nel femminicidio la persona che ama è lo stesso perché si sente perseguitato quindi si sente legittimato c'è sempre un'auto legittimazione della violenza che nasce dal fatto forse anche non così illusorio ma anche psicologico che il nemico ci ossessiona che il nemico ci pervade e quindi dobbiamo difenderci scusate riprendo sempre il concetto la mia idea di rapporto tra questo pessimismo estremo quasi irrazionale verità la psicanalisi ci ha insegnato scrive Proida dall'amico che il nostro intelletto è qualcosa di fragile e dipendente è un gingillo un gingillo pensate come è spregiativo l'intelletto che nell'illuminismo era stato così idealizzato viene qui definito gingillo strumento delle nostre passioni dei nostri affetti che siamo costretti ad agire ora con l'intelligenza ora con stoltezza secondo i nostri intimi atteggiamenti e le nostre intime resistenze quindi c'è una spinta quello che prima Recalcati chiamava questa spinta alla distruzione e all'autodistruzione che si fonda proprio su degli impulsi inconsci che potremmo parlare potremmo definire impulsi di morte dice la nostra scienza cioè la psicanalisi prosegue ha portato queste tesi cioè la debolezza dell'intelletto e la forza diciamo delle pulsioni sino alle loro estreme conseguenze e le ha utilizzate per chiarire numerosi enigmi di natura psicologica qui la lettera e poi riprende con enfasi queste dichiarazioni private quindi in fondo nelle quali avrebbe potuto abbandonarsi come si fa quando si parla tra amici e invece le dichiara pubblicamente nel saggio che è stato un po' il vero oggetto di questa serata con desiderazioni attuali sulla guerra e sulla morte del 1915 quindi un saggio scritto in piena guerra quindi e scrive Freud anche noi considerati in base ai nostri inconsci moti di desiderio altro non siamo come gli uomini primordiali che una masnada di assassini pensate appunto la violenza noi siamo una masnada di assassini la guerra ci costringe a essere eroi lo vediamo proprio in tutte le guerre incapaci di credere alla nostra morte e qui il termine morte viene citato tre volte ci addita agli stranieri come nemici cui augurare la morte e ci invita a sopportare con serenità la morte delle persone care quindi tre volte morte per parlare di guerra come se fosse l'elemento fondamentale questo principio di morte a questo punto il suo ragionamento riconosce accennandole appena notate in quanto risultano secondarie nel contesto l'esistenza che vi siano anche cause esterne cioè vi siano cause sociali che vi siano cause economiche che vi siano delle cause territoriali è secondo lui secondario di fonte all'effetto primario della pulsione interna cioè questa è decisiva rispetto a tutte le altre considerazioni dice la guerra non si lascia sopprimere fin tanto che le condizioni di vita dei popoli saranno tanto diverse e l'astio tra di essi tanto profondo e qui concessione all'oggettività il problema che allora si impone è questo non faremo meglio accedere e adattarci alla guerra chi si aspetta una simile dichiarazione non faremo meglio accedere ad adattarci alla guerra ma se davvero la guerra è ineluttabile come tutta la storia dimostra come tutta la storia della civiltà o dell'incivilimento come vogliamo pensarlo è soltanto un seguito di guerra ma non possiamo forse far altro che rassegnarci per dire che le cose non possono che andare così vedete che violenza hanno queste dichiarazioni di fronte alla cerca in fondo di tutta la cultura di trovare non soltanto le cause della violenza e della guerra ma cercare anche di evitarla cosa che è alla base del dialogo Freud-Einstein non sarebbe meglio riconoscere che col nostro modo di trattare la morte quindi reprimendone il problema abbiamo vissuto al di là delle nostre possibilità psicologiche e che perciò conviene piegarci alla verità questo mi sembra fondamentale questo è anche la morale freudiana della verità non è soltanto la morale della mediazione della parola ma c'è anche una profonda sfiducia in tutte le mediazioni dice in fondo c'è all'inconscio vive si sottrae alle forme di mediazione che a questo punto da questo punto di vista risultano consolatorie e dobbiamo accettare che a un certo punto non sempre ovviamente la repulsione di morte abbia il sopravvento e quindi la guerra appaia compaia in un modo insopprimibile sarebbe meglio riconoscerlo ripeto e perciò non piegarci alla menzogna questa regressione questo passo indietro rispetto sempre al processo di incidividimento il riconoscimento con istinto di morte di aggressività di autoaggressività ci abita ci offre il vantaggio di consentire una maggior sincerità e questo è il paradosso di rendere la vita più sopportabile in un certo senso mentre dice che è insopportabile dice non lo sopporto io non lo sopporta nessuno questa constatazione in fondo ci renderebbe la vita più sopportabile questo è in fondo un'ipotesi una provocazione sarebbe più sopportabile la vita se fossimo così stoicamente accettanti le sue contraddizioni le sue finalità distruttive andrebbe meglio per loro non lo sa è un dubbio anche in Freud e questo il dovere di ogni vivente conclude si vis vitam param mortem se vuoi sopportare la vita disponiti ad accettare la morte questa è una posizione stoica antica e questo dice è il dovere di ogni vivente e questa prospettiva dell'appunto di accettare la morte di sopportare la morte mi evoca ma non so con quanta legittimità dell'espressione heideggeriana di vivere per la morte che poi non riuscirei bene ad argomentare una disposizione questa di Freud del disporci alla morte che verrà ripresa in una delle opere più alte a mio avviso un vertice dell'elaborazione psicoanalitica al tempo stesso vero ed enigmatico che è al di là del principio di piacere del 1920 qui punto Freud giunge in fondo raggiunge la filosofia la filosofia di Schopenhauer la filosofia di Nietzsche e proprio quello che avrebbe sempre voluto rifiutare perché lo sentiva come un pericolo rispetto alla sua ambizione di introdurre la psicoanalisi tra le scienze quindi invece qui si trova ad arrivare nel 1920 ad un'argomentazione a prodare ad un'argomentazione filosofica quindi è stato detto questo che è il fatto che la vita si congiunge alla morte che la morte è nelle fibre della vita che il procedere della vita è sempre congiunto al procedere della morte e quindi è un'idea totalizzante questa che vale per tutto il vivente non è una condizione umana è una condizione che tutto ciò che vive è destinato a morire tutto ciò che è organico è destinato a confluire in una materia inorganica quindi in questa necessità sta il pessimismo di Freud come se non ci fosse nulla da fare se non si congiungerlo con l'eros col principio di vita è questo che accade normalmente però la coazione a ripetere ci dimostra ed è nel nostro modo di vita che è proprio il silenzioso procedere della pulsione di morte c'è a mio avviso un prevalere della pulsione di morte sulla pulsione di vita che non fa che rallentare questo processo il precipitare verso la morte viene in un certo senso allontanato rinviato dalla pulsione di vita ma poi comunque la morte per l'individuo e per la civiltà è destinata al suo avviso secondo la mia lettura naturalmente a prevalere in ultima analisi dicevo scopo della vita è la morte ecco dice come avevo premesso queste osservazioni queste conclusioni queste elaborazioni risultano così insopportabili che nel congresso di Budapest di soli tre anni dopo e non molto dopo non vengono minimamente evocate accennate il tema del congresso come avevo detto sono le nevrosi di guerra e quindi c'è la promessa è un momento molto positivo per la storia della psicanalisi la promessa che se la guerra continua così dicono le autorità militari si apriranno da ogni parte in ogni città degli ambulatori psichiatrici per la cura delle nevrosi e ci sarà lavoro per tutti gli psicanalisti quindi qualcosa beffa del destino non può non può realizzarsi niente di tutto quello che in quel momento hanno in mente di fare di progettare gli psicanalisti può essere fatto perché dopo qualche mese la guerra finisce e Freud osserva che appunto meno male dice che se non altro ci siamo fatti ascoltare abbiamo trovato udienza tra gli psichiatri perché altrimenti d'ora in poi quello che è l'oggetto di cui stavamo trattando le nevrosi di guerra con la fine della guerra non ci saranno più scompariranno quindi un momento anche abbastanza di confusione di una beffa in un certo senso perché Freud dice naturalmente meglio che la guerra sia finita siamo tutti contenti di questo ma per la psicanalisi appunto è una delusione allora mi vorrei raccontare a questo punto anche perché è tardi e forse immagino che sorriderete dietro la mascherina come Ferenczi apre che è il primo oratore del congresso apre la sua conferenza a me un sorriso devo dire è scappato racconta così esordisce con un apologo che penso alleggerà un po' le discussioni di questa serata un apologo sui capi della rivoluzione russa siamo al cremlino l'esercito comunista ha raggiunto le vette del potere e si aspetta che il popolo risponda con entusiasmo al rovesciamento dei rapporti di forza cioè finalmente il proletariato ha raggiunto le sue mette e i potenti si aspettano che siano tutti contenti e qui evidentemente l'evocazione che ci riguarda è evidente e che realizzino subito quello che era stato loro concesso cioè di acquisire il potere questo non capita non c'è nessun entusiasmo il proletariato fatica ad accettare i mutamenti rimane nelle sue posizioni allora si riunisce il comitato dei potenti e dice che forse alla teoria materialista dei rapporti di forza e di potere manca un'inezia è chiaro che qui Ferenzi sta facendo dell'ironia un'inezia che era la vita affettiva degli uomini la realtà psichica allora cosa fa qui prende l'andamento di una favola allora i potenti del creminino mandarono messari nei paesi germanofili guardate appunto germanofili ad acquistare opere di psicologia tutte le opere di psicologia che avrebbero potuto racimolare in modo da farsi qualche cognizione su una branca di sapere che era stata trascurata a questa trascuratezza dei rivoluzionari osserva Ferenzi sono stati sacrificati forse inutilmente molte migliaia di uomini ma l'insuccesso dei loro sforzi li ha aiutati a compiere in un grande passo la scoperta della psiche ma per dirvi come questo apologo in un certo senso si ripeta perché tutto la storia è sottoposta a una ripetizione lo ammette anche Marx quando dice una volta come tragedia la seconda volta come farsa purtroppo non mi risulta che la grande scoperta cioè della psiche sia stata capita da chi si aspettava di concludere una guerra lampo per la spontanea adesione della popolazione né che di fronte alla smentita di quella convinzione si sia affrettato ad acquistare libri di psicologia tornando al congresso di Budapest le fosche teorie di Freud sull'inevitabilità della guerra non furono mai menzionate si trattava qui di una questione più immediata di una questione clinica guarire i soldati senza tante speculazioni filosofiche molte furono le precauzioni per far accettare ai medici il fatto che le cause delle nevrosi di guerra non erano affatto organiche ma psicologiche molti le consideravano simulazioni pensavano che i militari fingessero delle nevrosi per cercare di non rimanere in campo per ottenere la pensione oppure per truffare le assicurazioni ecco adesso vediamo quali sono rapidamente se c'è tempo o se no ma rapidamente i contributi della psicoanalisi alla luce di una pandemia adesso in nostro sguardo in un certo senso questo quando il libro è stato da me prefatto che alla luce di una pandemia di cui vediamo gli effetti psicologici mentre credo che dal punto di vista delle psicoterapeuti dei medici dei pediatri non sia ancora possibile valutare gli effetti post-traumatici di questa guerra e in un certo senso è troppo presto vediamo se possiamo rapidamente citare alcuni passi ecco per Ferenzi per esempio fa un'osservazione agli psichiatri che potrebbe essere fatta alla medicina in generale dice Ferenzi se il danno che causa le nevrose di guerra dipende da un insulto organico l'effetto dovrebbe essere immediato allora uno ha ricevuto un trauma di guerra una granata che gli è scoppiata accanto dovrebbe immediatamente avere degli effetti negativi in realtà dice no non è così molte volte i sintomi esplodono quando il pericolo è cessato quindi sono postume gli effetti delle traumi di guerra perché essi non possono effetti e non sono effetti del trauma bensì guardate questo è molto importante dell'elaborazione che si fa del trauma questo vale anche per il lutto il lutto non è in se stesso un trauma ma è come viene percepito il lutto cioè è lo psichico che decide se un trauma se un fatto se un evento è traumatico o no quindi dice Freud è che il tentativo di rassicurarci quello che ci mette alla prova che ci confronta con il trauma che è sempre un trauma psichico più che organico no la causa delle nevrosi di guerra quindi si sposta così dal di fuori dalla ricerca della causa al di dentro cioè la nostra elaborazione è la nostra psiche che causa la nevrosi non è il fatto in sé vedremo infatti per esempio che non dipende dalla gravità del pericolo dalla gravità dello shock ma c'è chi reagisce più o meno a seconda della sua storia della sua personalità delle sue aspettative è psicologico la decisione della intensità del trauma in questi anni per esempio in questi mesi anni ormai la pandemia è stata una dura prova per molti ma non tutti hanno reagito allo stesso modo a parità di condizioni nella stessa famiglia un bambino veniva traumatizzato e aveva per esempio si rifiutava di uscire di casa il fratellino che aveva vissuto la stessa situazione non ne risentiva affatto quindi è una questione anche molto soggettiva la nevrosi di guerra i più frequenti effetti sono e vedete come sono vicini ai nostri a quelli dei nostri figli ipocondria angoscia eccitabilità indisciplina scoppi di collera ma anche la pretesa di essere coccolati curati e compatiti come i bambini cioè c'è una regressione assistiamo qui a una regressione psichica tra le righe della sua relazione Ferenzi riporta un'osservazione di Freud che si rivelerà fondamentale per i successivi sviluppi della disciplina è già stato più volte accennato dice Ferenzi riconosce che c'è un fondamento un procedere verso la pulsione di morte come coazione a ripetere ecco più volte è stato detto che la coazione a ripetere che avviene può avvenire nel sintomo può avvenire nel gioco dei bambini nelle incerte insistenze vediamo il silenzioso procedere della pulsione di morte il secondo oratore Abram dice nel conflitto interno la causa delle nevrosi tra l'io pacifista precedente prima della guerra e l'io bellicoso che invece subentra con l'inizio della guerra tra l'altro noto una cosa interessante che quando i soldati sono fatti prigionieri quindi non esiste più il conflitto tra essere eroici battaglieri ed essere pacifisti le nevrosi di guerra nella prigionia non ci sono più ecco un'altra invece considerazione di di Abram è che esiste secondo lui e questa è interessante in senso negativo perché evidentemente sbagliata che le nevrosi di guerra sono più frequenti in coloro che non hanno raggiunto un equilibrio genitale la cui sessualità non è giunta a maturità quindi secondo lui sono quelli che hanno un aspetto femminile dice la passività femminile fa sì che gli uomini renda gli uomini incapaci di risolvere il conflitto psichico tra uccidere e morire inevitabile nelle situazioni di guerra ecco questo che viene vista come una femminilità come una debolezza femminile in realtà ci richiama il fatto che come diceva Mario Spinella citato prima da Marisa Fiumanò scrive un libro che si chiama Le donne non la danno che con una certa ambiguità vuol dire le donne la guerra non la danno proprio perché si evitano si propongono di non decidere mai tra uccidere e morire quindi ne uccidono ne si sottopongono alla morte eroica tanto facilmente quindi in questa che è vista come una debolezza si può leggere invece come una forza femminile quella di sottrarci appunto questo conflitto interno naturalmente i sintomi sono quelli sempre gli stessi quello di un bambino cattivo viziato sfrenato perché è impaurito cioè la paura che determina appunto questa regressione per Simmel invece questo interessa meno propone invece il metodo catartico il metodo catartico è un metodo che va a leva all'inizio della psicanalisi significa allora esprimere tutti i propri elementi negativi la paura la rabbia l'odio il rancore e portarli così a reazione a catarsi in un certo senso il modello è quello del teatro tragico classico che quando tutte le passioni sono state recitate portate ad esaustione subentra la catarsi la purificazione questo modello molto semplice che c'è ancora comunque esiste nella psicoanalisi nelle psicoterapie contemporanee però molto più complicato per esempio dal riconoscimento del transfer che tutto deve avvenire in una corrente reciproca di amore e di odio non può essere una semplice rappresentazione lasciamo perdere l'altro c'è poi Jones che Jones è un grande psicanalista inglese che è quello famoso per aver scritto la prima grande fondamentale biografia di Freud che interviene qui non c'era al congresso ma viene chiesto a un suo scritto di essere introdotto nel libro è molto interessante questo già più vicino alla psicoanalisi alla maturità della psicoanalisi che se in tempi di pace le nevrosi riguardavano soprattutto il conflitto tra desideri sessuali e divieti morali in tempi di guerra si tratta piuttosto di conciliare un altro sforzo vedete tutti mettono a fuoco un conflitto tra l'ideale dell'io che dice e invece che induce all'eroismo al combattimento invece il processo di autoconservazione che induce a fuggire quindi tra il fuggire e il lottare è un altro conflitto quindi una tensione è una possibilità che desta una nevrosi anche senza essere realizzata ecco una cosa interessante anche che le nostre fantasie la nostra immaginazione può essere nocive e indurre dei sintomi non necessariamente però queste fantasie devono essere realizzate possono essere possono curare e possono essere nocive e beleno o cura anche senza avere una realizzazione sul piano pratico sto finendo questo lo saltiamo dice adesso appunto della guerra non conosciamo ancora le conseguenze perché è appena avvenuta ma molte di queste osservazioni saranno attuali ancora non sono così superate come potrebbe sembrare perché è passato un secolo il disturbo post-traumatico da stress dei veterani di guerra dice un libro di Sergio Finzi nevrosi di guerra in tempo di pace quindi le nevrosi dei coloro che hanno fatto veramente la guerra sono veterani di guerra si prolungano nel vissuto dei reddici reduci da nessuna guerra eppure che ancora rivelano esprimono nevrosi di guerra come se fosse una trasmissione inconscia da una generazione all'altra di quello che è stata un'esperienza collettiva è vero che accanto alle manifestazioni di grave malessere emergono anche atteggiamenti positivi come la solidarietà la trasformazione della compassione in aiuto reciproco il riconoscimento di valori qual è la famiglia la scuola l'ospitalità che sembravano dissolti nella liquidità della tarda modernità della loro portata deciderà il futuro è accaduto tutto così rapidamente se vedremo se domani ci vedrà migliori o peggiori del prima prima della pandemia prima della guerra molte cose ci separano dagli eventi bellici di un secolo fa ma come insegna la psicoanalisi vi sono effetti che si sottraggono ai mutamenti temporali perché esprimono quanto vi è di mutabile nella nostra psiche una persistenza cioè non tutto è congiunturale nella nostra psiche ma vi sono delle permanenze che rende attuali quei testi e ancora capaci di stupire di interrogare e forse forse di curare e di educare grazie grazie a te Silvio grazie abbiamo fatto le undici è una discussione molto molto intensa io per dovere di coscienza chiedo Anna Marisa ma se uno flash ancora una parola ancora non è obbligatorio io volentieri ma non voglio una parola sì chiudiamo così con gettare un filo di speranza io vengo a prevalere le pulsioni di vita no? ecco possibilmente allora a me sembra che il quell'ultimo punto che avevo accennato che la psicoanalisi del nostro tempo da psicoanalisi del soggetto e quindi con tutte le inevitabili precipitazioni narcisistiche sta tentando di diventare una scienza dei legami e di studiare quindi in qualche misura la possibilità degli animali in relazione che sono gli esseri umani di vivere insieme no? ecco mi sembra che si debba ricordare il contributo di Bion che appunto con i soldati traumatizzati della seconda guerra mondiale ha proposto il gruppo come uno strumento nel quale uno dei rimedi no? alla questione della pulsione di morte che Freud proponeva era quello dell'identificazione reciproca che mettendosi in gruppo in un modo come dire un po' governato dalla conoscenza del funzionamento psichico è possibile identificarsi l'uno con l'altro e in qualche modo riconoscere nell'altro il simile ma anche il diverso e quindi quello che di diverso c'è in ciascuno di noi ed è una delle ragioni di questa riunione di oggi e della nostra conversazione e quindi un filo di speranza è uno sviluppo di una scienza anche la psicoanalisi che vede cerca di trovare le forme di stare insieme nei legami che Bion e poi gli sviluppi anche di Ogden hanno mostrato che siamo tutti plurali nessuno di noi è unico e quindi ogni pensiero unico come la guerra non ci serve ci serve un pensiero plurale difficile grazie Marisa flash posso? certo no volevo dire solo brevemente questo sono molto sono stata colpita anche dal dall'esposizione di Recalcati perché in qualche modo l'ho immaginata un po' in continuità con la mia ma mi interessava soprattutto quello che lui ha detto della continuità fra la parola e il lutto perché mi sono chiesta ma perché noi siamo come dice Freud costituzionalmente pacifisti perché noi voglio dire frequentatori della psicanalisi diciamo in generale sia chi fa l'analista che chi fa un'analisi naturalmente anche altri ma forse per motivi diversi perché c'è nell'esperienza analitica un'elaborazione della perdita un'elaborazione quindi del lutto un'elaborazione del buco che ci costituisce e forse dico forse non è detto ma forse c'è la possibilità che l'esperienza dell'analisi della psicanalisi in quanto elaborazione di un lutto in quanto elaborazione di una perdita e in quanto soprattutto valorizzazione della parola valorizzazione della parola sia in qualche modo ci renda in qualche modo come dice Freud costituzionalmente pacifisti grazie Marisa Massimo io vi saluto perché da qui è un po' vi saluto vi abbraccio e grazie per la serata però grazie a te devo dire come sempre ti ringrazio di cuore Silvio voglio aggiungere una parola soltanto come sintesi di questa serata vorrei citare il titolo di un saggio di Freud che si chiama analisi terminabile e interminabile ora tutte le appelli alla psicoterapia le possibilità di conciliazione di mediazione hanno a fare con analisi terminabile cioè con l'esperienza analitica mentre c'è un nucleo oscuro un nucleo profondo irriducibile che ha a che fare con l'analisi interminabile grazie grazie io chiudo con questa banalissima considerazione il nostro intento era far circolare alcune questioni che non sono presenti nel dibattito attuale devo dire francamente se questo è l'obiettivo ci siamo riusciti grazie ai nostri interlocutori grazie di cuore e a tutti voi per il lavoro ciao a tutti grazie